Bene, grazie, buongiorno a tutti. In pochi minuti conclusivi cercherò di darvi qualche elemento che chiude alcuni cerchi che sono stati aperti durante il dibattito. In particolare mi riferisco al contributo del mio presidente, del generale Carta, che ha tracciato quello che Leonardo è in grado di fare nel settore spaziale, facendo riferimento al fatto che presidiamo l'intera catena del valore nel settore. Quindi in realtà partiamo proprio da questo, partiamo dai satelliti. Per fare queste cose che ci siamo detti, per raggiungere questi obiettivi, innanzitutto bisogna realizzare i satelliti. E noi, come gruppo industriale, abbiamo realizzato il fiore all'occhiello dell'osservazione della Terra italiano, che è Cosmos SkyMed, stiamo realizzando, ovviamente sotto il controllo del governo, quindi dell'Agenzia Spaziale e del Ministero della Difesa, che sono i due utilizzatori storici. Oggi, proprio grazie al maggior coinvolgimento di tutti gli ambiti ministeriali, evidentemente anche Cosmos SkyMed si ritrova ad avere un ruolo rinnovato e poter contribuire significativamente a parecchi requisiti e bisogni del nostro Paese. Abbiamo realizzato Cosmos SkyMed, che dicevo è il fiore all'occhiello, ci tiene ancora all'altezza, a livello mondiale, su quello che è l'osservazione del pianeta, in particolare con una tecnologia radar, sintetica virtual radar, quindi capace di osservare in qualunque condizione di tempo meteorologico, anche a prescindere dall'illuminazione, quindi anche di notte. Oggi è il sistema che presenta le migliori performance in questo segmento, stiamo sviluppando, abbiamo sviluppato la seconda generazione, il primo satellite della seconda generazione in orbita, proprio con l'ASI. Condividiamo e con il Ministero della Difesa la, come dire, la soddisfazione di vedere le caratteristiche di questa seconda generazione, che sono straordinariamente ancora più performanti rispetto alla prima. C'è poi il sistema Copernicus, il sistema europeo, anche questo è stato ampiamente citato, sapete che è basato sulla presenza di sentinelle, cioè di satelliti che sono lì per garantire, con diverse tecnologie a bordo, le capacità di osservazione e di misurazione di fenomeni nel pianeta. Esistono tante di queste sentinelle, la nostra industria ha contribuito alla realizzazione di alcune di queste su una scala europea, in particolare va sottolineato che recentemente, lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, è stata, come dire, lanciata la pianificazione e ovviamente il finanziamento di nuove sei sentinelle che portano a bordo nuove tecnologie per arricchire il panorama. Il governo italiano, qui c'è Giorgio Saccoccia, che era presente insieme al sottosegretario Fraccaro durante la ministeriale dell'ESA, ha partecipato significativamente allo sviluppo e al finanziamento di questo programma europeo e noi industria abbiamo già acquisito un ruolo significativo, quindi la TALESA Arena Space Italia sarà il prime contractor di due di queste sentinelle, in particolare collegate ancora al sistema radar e ai radiometri e Leonardo contribuirà anche per una terza sentinella con il payload iperspettrale. Quindi questo è brevemente il contributo che l'industria nazionale ha dato per consentire che ci fossero in orbita delle capacità di osservazione. L'altro aspetto, a proposito di tutta la filiera, è mantenere in condizioni operative questi sistemi ma soprattutto sviluppare le applicazioni per estrarre le informazioni. È il ruolo che Telespazio e i GEOS hanno e abbiamo garantito e oggi abbiamo un insieme ricchissimo di applicazioni che consente di lavorare in diversi segmenti verticali, quindi la difesa, l'intelligence, la gestione dell'emergenza, la gestione dell'ambiente e di tutto quanto necessario per supportare, l'agricoltura è sicuramente un esempio rilevante per supportare gli sviluppi del nostro paese ma soprattutto stiamo lavorando su una scala globale, abbiamo ormai, serviamo mercati a livello mondiale. Allora facciamo alcuni esempi così poi chiudo con delle immagini che aiutano a dire soprattutto al direttore dell'agenzia, Antonio, che la direzione che avete intrapreso è quella giusta perché ci sono gli strumenti per supportare. I beni culturali e il patrimonio immobiliare, se ne è parlato tanto, si è parlato, l'ha citato anche il presidente Carta, di interferometria. L'interferometria è un parolone che semplicemente porta a ricordare che il satellite Cosmo, SkyMed, radar, con passaggi successivi, osservando la stessa scena con la stessa geometria, è in grado di rilevare spostamenti con precisione millimetrica. Allora vedete questi puntini verdi, questi puntini verdi semplicemente ci portano, ci rammentano, ci rappresentano, che in un tempo normalmente, tipicamente di alcuni mesi, considerate che noi registriamo i passaggi sul territorio nazionale ogni 15 giorni che vengono messi in un database che ormai è disponibile da più di 10 anni, e già dopo qualche mese è possibile rilevare se ci sono delle anomalie in questi spostamenti. Questi pallini verdi semplicemente ci tranquillizzano e ci stanno dicendo che se ci sono, come tipicamente ci sono anche per effetto di tanti fenomeni, non ultimo anche quello termico, spostamenti, questi sono all'interno di una fascia di sicurezza e quindi non ci sta generando alcun allarme. Ci sono altre tecnologie digitali, chiaramente un limite dell'interferometria è che la quantità di dati che essa può generare, soprattutto se ci proponiamo di farle in maniera estensiva, pensiamo di verificare tutti i ponti, tutte le scuole, tutto il patrimonio del demanio, beh a questo punto un limite che abbiamo un po' pagato negli anni passati era nella capacità di elaborare questa enorme, infinita massa di dati, ma anche su questo le soglie si sono abbassate. Quest'anno il gruppo Leonardo si doterà, ci stiamo dotando di un iPower Computer che ci consentirà di portare in Italia una capacità di calcolo assolutamente all'altezza di poter processare grandissime masse di dati e quindi rispondere a questa esigenza. Quindi c'è la tecnologia digitale che ci sta pervadendo pesantemente, che l'abbiamo agganciata ormai e che supporta queste cose. Allora questa tecnologia digitale ci consente anche di mettere insieme cose, di rappresentarle, immagini satellitari, immagini terrestre, mappe e rappresentarle in una modalità anche che ci consenta da remoto, si è parlato del digital twin, del gemello digitale, delle cose, ci permetta di studiare dei fenomeni e quindi anche di rappresentarli in maniera semplice. Il demanio si preoccupa ovviamente anche di una serie di fatti che si riferiscono e il cui controllo può non essere particolarmente semplice, soprattutto se richiede un'analisi e un monitoraggio anche su tempi molto lunghi. Vedete per esempio questo è un tratto di costa italiano dove è possibile rilevare, osservando immagini con la stessa geometria a distanza di tre o quattro anni, che la spiaggia è stata drammaticamente rosa. Allora è evidente che quest'analisi è esposto, però si può fare anche durante e quindi la capacità di controllare progressivamente l'insorgere di fenomeni aiuta e aiuterà sempre di più a governarne gli interventi e quindi la protezione. Un altro esempio è quello degli sversamenti degli idrocarburi che accadono nel nostro mare, accadono nel Mediterraneo, tra l'altro questo è un problema che l'Europa si è posta anche tramite un'agenzia che si chiama Emsa, European Maritime Safety Agency, che si è posta proprio l'obiettivo di controllare cosa accade nel mar Mediterraneo e noi supportiamo l'Emsa, l'abbiamo supportato a lungo, anche proprio grazie all'analisi che il Cosmos Chimed consente, perché il dato radar permette di identificare chiaramente e in maniera inequivoca la presenza di idrocarburi nel mare. Questo permette anche di allarmare il sistema del controllo delle coste e evidentemente anche, potete immaginare, l'intervento che diventa sanzionatorio e che quindi in qualche modo diventa anche un motivo di limitazione di questi fenomeni. Effettivamente l'Emsa ci segnala che da quando ha attivato questo tipo di controllo nel Mediterraneo il fenomeno si è ridotto del 50%, quindi c'è una sorta di maggiore consapevolezza di chi va per mare a rischio di fare questo tipo di inquinamenti, sa che in realtà è osservato e può essere identificato rapidamente. Questo però aiuta anche, per esempio, il demanio a gestire o a proteggere l'inquinamento delle coste. I nostri sistemi hanno dimostrato, stanno dimostrando, noi lavoriamo per la Commissione Europea con un contratto ormai da parecchi anni per la gestione di tutte le emergenze che vengono non solo nel territorio europeo ma anche in paesi del mondo dove i paesi membri dell'Unione Europea hanno piacere di supportare la gestione delle emergenze. Noi facciamo il rapid mapping e tutta l'analisi ex ante, ex post dell'evento emergenziale e quindi vedete, per esempio, recentemente, alla fine dello scorso anno, porto questo esempio, c'è stata un'alluvione in Vietnam su cui siamo stati attivati e abbiamo dato tutti i supporti per la gestione dell'emergenza e vedete effettivamente che l'analisi delle immagini attraverso il dato radar ci permette di identificare immediatamente le zone che sono state affette dall'evento e quindi consentire poi non solo la misura, la valutazione dei danni ma soprattutto anche la gestione degli aiuti. Analogamente accade, per esempio, lo uso solo come esempio, ma potete immaginare quanti ne abbiamo e siamo a vostra disposizione per approfondire, con gli incendi. Guardate questo incendio che è avvenuto in Australia sempre alla fine del 19, che ha devastato un'enorme porzione di territorio e poi successivamente, attraverso l'analisi delle immagini satellitari, è possibile identificare anche qui il danno ma soprattutto anche capire come è stata impattata la vegetazione e che tipo di interventi sono opportuni. Mi fermo qui perché evidentemente non abbiamo il tempo di andare oltre, però volevo darvi questa dimensione dell'industria che ha supporto delle soluzioni che sia l'ASI che ovviamente i centri di ricerca nazionali studiano e concepiscono proprio nella nostra capacità di realizzare e mettere in opera le cose. Ecco perché voglio richiamare la proposta che Giorgio Saccoccia ha fatto da Antonio a proposito del fatto di voi a due agenzie mettetevi insieme per capire i requisiti e come reagire e noi siamo a vostra disposizione per farli diventare realtà. Grazie.